Guido Guidesi, con il decreto Roma Capitale, ancora una volta il governo Letta cerca di riparare i debiti enormi del Comune di Roma. Andiamo a chiudere questa settimana di marchettismo totale, vi compreso la legge di stabilità, con la ciliegina sulla torta, che è il decreto su Roma. Il decreto su Roma toglie a Roma la possibilità, chiamiamola così, di aumentare l'addizionale IRPEF, il Comune viene aiutato completamente dal governo per provvedere a rivedere il proprio dissesto finanziario e in più c'è un articolo completo che dona al Comune di Roma, oltre alla copertura del dissesto finanziario, anche circa 30 milioni di euro per la gestione dei rifiuti. È una cosa inaccettabile, soprattutto non equa rispetto invece a quei comuni e a quei tanti comuni che le regole rispettano. Insomma, in clima natalizio il governo Letta ancora una volta fa un regalo di Natale al sindaco Marino? Non è solo, non c'è dentro solo Roma. Il decreto salva Roma, così ben definito, non riguarda solo Roma, ma il governo ufficializza quello che noi abbiamo sempre detto. Il governo è il Bancomat del Sud perché ci sono finanziamenti per la Regione Calabria, finanziamenti per la Regione Campania, per il trasporto pubblico, per la gestione dei rifiuti, eccetera, eccetera, eccetera. Marchette impressionanti a comuni specifici del Meridione, è una situazione insostenibile. La lobby del Sud è la vera ispiratrice di questo governo. E sulle slot machine? Sulle slot machine noi abbiamo presentato un emendamento che togliamo quella norma inserita dalla maggioranza al Senato che favorisce i gestori delle slot machine e dei giochi. Noi vogliamo toglierla e ci auguriamo che la maggioranza ci venga dietro, come ha detto il segretario del Partito Democratico. Vediamo se sarà così. Grazie. Grazie.